Ciao, oggi vi mostro come potete guardare e scaricare film online. Aprite il vostro browser e digitate fcvalidita.pw Premete invio e qui su questa pagina potrete vedere due link per accedere al sito, uno in alto e uno in basso. Voi dovrete usare il primo, quello in alto. Cliccateci sopra ed eccoci qua. Come potete vedere avete tutti i film, sia vecchi che nuovi. Dopodiché dovete digitare qua su in alto quale film volete vedere. Io ad esempio guarderò emoji. Ecco, cliccate sul film. Quando lo fate vedrete qui di seguito tutte le informazioni riguardanti il film e semplicemente in basso cliccate su scarica. Ecco, prima di finire dovete solo registrarvi, il che richiede pochi minuti. Ed è completamente gratis. Cliccate quindi su Crea account. Ok, abbiamo quasi fatto. Questo è forse il passaggio più facile. Qui dovete soltanto digitare il vostro indirizzo email. Io adesso farò lo stesso. E di seguito, ovviamente, la vostra password. Quando avete fatto, cliccate su Continuo. Questa pagina dovrete compilarla invece con i vostri dettagli personali. E ancora una volta è tutto gratis. Dopo aver letto tutta la spiegazione, potete iniziare. Ora la compilo con le mie informazioni, ma ovviamente dovrò nascondervele. Mettiamo il numero della carta. Ecco qua. Comunque questo è l'ultimo passaggio. Dopodiché potrete guardare o scaricare qualsiasi film vogliate. Cliccate su Continuo e aspettate che il film carichi. Ci vorrà un po'. La mia connessione è un pochino lenta, ma vi mostrerò solo come funziona e qualche parte del film. In alto a sinistra, ad esempio, avete il tasto Play. Cliccateci. Ed ecco che inizia. Ora vi mostro qualche scena, giusto per farvi vedere la qualità. E ovviamente c'è anche l'opzione per mettere lo schermo intero. Ok, io credo di aver detto tutto e spero di essere stato chiaro. Grazie della visione e tanti saluti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.